Due giorni di festa con i bersaglieri sabato 30 e domenica 31 marzo Si inizia sabato sera con il concerto della fanfara Fausto Balbo di Settimo Torinese Domenica 31 alle 9 tutti in piazza della Repubblica Poi alle 10 messa e a mezzogiorno l'inaugurazione del monumento ai bersaglieri Dopodiché tutti a pranzo presso la sede degli Alpini Non mancate sabato 30 e domenica 31 a Borgaro Torinese per festeggiare con i bersaglieri